Dal 9 al 12 maggio torna l'appuntamento con Oro Arezzo, mostra internazionale dell'oreficeria e gioielleria, giunta alla 36esima edizione. Una manifestazione che quest'anno registra numeri da record, presentando le collezioni di ben 650 aziende espositrici, il 35% in più del 2014. Oro Arezzo è inserita dal Ministero per lo Sviluppo Economico tra le 30 fiere strategicamente più importanti in Italia per la promozione del Made in Italy. L'evento fieristico di maggio è di fatto il supporto strategico per gli aspetti commerciali e promozionali che si svolge nel primo distretto orafo d'Europa, forte di 1300 aziende e 11.000 addetti. È una edizione davvero in grande, questo è l'evento in assoluto nell'arco del tempo che ha il maggior numero di espositori, abbiamo superato le 600 espositori, questo non era mai successo. Questo grazie anche a Frutto e all'accordo con la Fiera di Vicenza. Ci sono oltre 300 buyers, ovviamente i commercianti e gli acquirenti sono quelli che ci interessano assolutamente di più. Tra l'altro quest'anno ci sarà anche un padiglione interamente dedicato ai macchinari che è allocato all'esterno di Arezzo Fiera e Congressi. Per noi la cosa più importante è che vengano tanti e tanti compratori e che si trovi un momento storico in cui ci sia la possibilità di scrivere direttamente ordini, quindi contatti sicuramente ce ne saranno molti perché aver unificato due momenti fieristici che erano prima separati, Arezzo Aprile e Vicenza Maggio, sicuramente favorisce anche per il buyer la possibilità di venire in questa fiera e quindi anche di programmare i propri acquisti. Grazie.